Allora Giuliano, non sei naipe, tra un po' si farà scuro e potremmo vedere molto meglio l'aurora boreale Se dici così io non so che cosa risponderti, cioè bu Ehm, in che senso Giuliano, non ti sto seguendo Mi hai detto che potremmo vedere l'aurora boreale, giusto? Sì sì, confermo, vedremo l'aurora boreale Ma voglio dire, non ha molto senso quello che stai dicendo Intanto siamo da soli noi due qui sopra E quindi cosa c'entra? C'entra e come? E poi questa aurora è vera o finta? Diciamo che è vera, però non è materiale, nel senso non è tangibile, però esiste davvero Eren, non so come dirtelo, ma tu hai gli amici immaginari Anzi, in questo caso la ragazza immaginaria No Giuliano, non dirmi che hai frainteso tutto Prima di tutto, non c'è nessuna ragazza di nome Aurora Qui con noi Poi che dici boh, reale E non mi sai dire se è reale veramente o se è finta Direi che è tutto dire Quindi visto che non hai nessuna ragazza da presentarmi Io direi che me ne vado Giuliano sei davvero un cretino Come glielo spiego che l'aurora boreale è l'effetto di luce dietro di noi Salve a tutti blazers, benvenuti in questa nuova mod review della domenica Ragazzi, oggi andremo a fare una mod molto particolare Una mod review molto particolare Perché non sarò io a parlare Ma lo dovrà fare la mod stessa Eh Ren, ma che cosa ti stai fumando? No ragazzi, sono serio Infatti la prima cosa che voglio fare È alzare un pochino i suoni Diciamo, rispetto al solito li alziamo di qualche punto Li portiamo al 40% Perché, sentite State ascoltando? I suoni del vento Gli uccellini che ci inguettano Ragazzi, questa mod parla da sola Perché si chiama Dynamic Surrounding Ed è È appena passata un'aquila Ed è una mod ambientale Il che cosa vuol dire? Questa mod non aggiunge blocchi Non aggiunge nulla di tangibile Aggiunge suoni Aggiunge effetti atmosferici Come tempeste più intense Aurore boreali Tempeste di sabbia Effetti di fog Come vedete la nebbia laggiù E soprattutto tanti tanti suoni Questa mod rende Minecraft Molto più realistico Con appunto Gli effetti ambientali Ed è una cosa che manca tantissimo Manca come il pane a Minecraft Ricordate quando In uno degli ultimi snapshot Hanno modificato il suono della pioggia Vi ricordate quanta differenza ha fatto? Ecco Se voi proverete questa mod Facendo un giro per il mondo Percepirete un gioco totalmente diverso E quindi Con molto piacere Ve la voglio presentare Per quanto sia atipica Mi sembra Una cosa molto figa E una delle mod più belle Che io Vi possa portare Per aumentare Effettivamente L'esperienza di gioco Quindi ragazzi Che cosa succede? Questa mod Come vi ho detto Aggiunge determinate cose Ho fatto qui un elenco Quindi abbiamo Suoni Nuovi Suoni ambientali E non Di origine animale Vegetale Qualsiasi cosa Con una regolazione Del volume dei suoni A seconda della situazione Del posto dove ti trovi Quindi anche suoni dinamici Le texture Anche verranno modificate In base al bioma E alla situazione ambientale C'è l'effetto di fog Che dopo vedremo In particolar modo Come tutto il resto Effetti particellari Il colore del cielo Che muta In base alle condizioni Atomosferiche E il luogo E appunto è la nebbia Che dipende Non solo dall'altezza Dove ci troviamo Più andiamo giù Meno la nebbia sarà intensa Più andiamo su Più la nebbia ambientale Si intensificherà Vedete A parte quando ti metti a volare Perché praticamente Sei in creative Hai bisogno di una visione Un po' più lunga E ampia Vedete Abbiamo la nebbia Perché se tu vai in montagna E guardi giù nelle vallate Non vedi tutto definito Vedi tutto annebbiato Perché nella natura Funziona così In minecraft Però no E questa cosa è un peccato Anche la pioggia Dipenderà La sua intensità Dipenderà Dall'altezza Dove ci si trova Inoltre Ogni bioma Ha dei suoi suoni specifici Suoni che Vengono basati Sul bioma stesso Altre volte Addirittura Su dei blocchi In particolari Avrà Il suo livello di fog Suoni di Uccelli Insetti Le onde Sulla spiaggia Il rumore del vento Scricchioli Dei passi Che cambiano A seconda del blocco Dove cammini E il tutto cambia Se giorno Notte Sereno Piovoso Quindi a seconda delle combinazioni Di orario E condizioni atmosferiche Allora Come si recensisce Una mod del genere Ora ragazzi Partendo da questo posto Andremo a Presentare Vari situazioni Vi farò vedere Sentire Quello che succede Magari per qualcuno Potrebbe risultare Palloso Stare ad ascoltare Soprattutto quando faremo Il giro dei biomi Circostanti Che sono tutti diversi E variano tanto Le condizioni Blazecraft 5 Avrei questa mod Ma io direi di si Comunque Qui siamo nella montagna Come sentite Abbiamo suoni del vento Abbiamo 5T di uccelli Sentite E ogni tanto Si sente anche Per esempio Adesso c'è un uccello Particolare Ogni tanto si sente anche Il suono di un'aquila O queste cose qui Ma vediamo Come la situazione Cambia Se per esempio Noi Mettiamo la notte Quindi Time set night Diventa notte Parte Una cicala Di sottofondo La situazione Si tranquillizza Un po' E come vedete La fog Rimane Torniamo però A giorno E variamo Le condizioni Atmosferiche Quindi così Abbiamo il giorno Sereno Se noi facciamo Diventare piovoso Succederà questo Inizierà lentamente A nevicare E il cielo Si farà Leggermente Più scuro La situazione Diventa Tutta più tranquilla Diventa tutto Più Bluastro La cosa invece Cambia drasticamente Se dal tempo Sereno Che andiamo Subito a rimettere Passiamo Direttamente Al tempo Thunder Quindi alla tempesta Guardate un po' Quindi si intensifica La neve Il cielo si fa Super buio Questo succede Anche in minecraft Vanilla E parte la tempesta Avete già sentito Il primo tuono Le tempeste Con questa mod Sono molto più intense E non solo Sono più intense Hanno anche Una variabile In intensità Quindi le tempeste Non saranno mai Sempre uguali Ci saranno Tempeste lievi Oppure tempeste Super importanti E pesanti Ora Basterà fare un giro Durante una tempesta Per sentire Come cambia La situazione Da bioma A bioma Per esempio Per esempio Qui si sente Una pioggia Molto lieve Quando andiamo Sotto gli alberi Senti meno Il suono Della pioggia Sentite come Rombano i tuoni Questo suono È fantastico Vengono i brividi E guardate lì C'è già Del fuoco Io ho fermato Lo spread del fuoco Perché cadono Molti più fulmini Nelle tempeste Più intense Ora vorrei provare A tornare a tempo sereno Al volo Ops Torniamo a tempo sereno Al volo Rimettiamo tempeste E vediamo se becchiamo Una tempesta Di un'altra intensità A questo punto Perché sarebbe Molto interessante Vediamo un po' In questo caso La tempesta Sembra più leggera C'è il vento Che soffia più forte Quindi si sente Un vento più pressante Ma ci sono meno fulmini Quindi la tempesta Di prima Era una tempesta Molto più seria Quando ho fatto le prove Per testare la mod Mi era capitata Una tempesta Qua abbiamo un fulmine Che è stata devastante Cadevano fulmini In continuazione Ad un certo punto Ha pure colpito In pieno un lama Un fulmine Quel povero lama È morto Quasi all'istante Comunque Ragazzi direi Di tornare Con il tempo sereno Perché adesso È arrivato il momento Di fare un bel giro Quindi iniziamo Il nostro giro Per poi andare In biomi particolari Con i common block Perché ci saranno Degli eventi Specifici e particolari Per prima cosa Notate i suoni Anche del player stesso Per dire Il salto Ha un suo suono La corsa Lo scatto E i passi Hanno un suo suono E ha un suo suono Anche la caduta Suono che a dirla tutta Adesso non ho sentito Ma che di norma Era un soffio Molto più forte Di vento Però vabbè Andiamo Avanti Allora vediamo Allora vediamo Come la situazione Cambia per dire In una dark oak forest Nella dark oak forest Come sentite Ci sono molti più insetti Ci sono suoni Legati appunto Più a una foresta Quindi ci sono più Insetti Più uccellini Più fauna Non c'è per esempio Il suono del vento Nel mente Per esempio I suoni dei passi I suoni del player Erano un po' più intensi Questo probabilmente Per via Dell'ambiente È appunto Come vi spiegavo Il volume Di alcuni suoni Vari a seconda Della situazione Dove ti trovi Vediamo per dire Questa foresta qui Se cambia qualcosa Vabbè Suoni di fogliame Passi molto più intensi Come sentite Uno dei biomi Più interessanti Da visitare È però la palude Ragazzi La palude Ha dei suoni Molto tipici Quindi appena ci entri Senti già la differenza Sentite Grilli Rane Insetti legati Diciamo alla situazione Di palude Il cielo si tinge Un po' di verde Ora questo biome È molto piccolo Quindi l'effetto Si nota poco Comunque c'è Questa tinta verde Che invade L'atmosfera Che dà Quest'idea di palude Un suono Per dire specifico Che ha la palude È quando vai Sulla ninfea Sentite Si attivano Suoni di rane E ranocchie E lì ci sono Delle bolle Sul fondo del fiume Vedete Ogni tanto partono Anche queste bollicine Dai fondali Per dare l'idea Di fondale vivo Perché magari La sotto Potrebbe per esempio Essere un pesce Nel fondale dell'oceano Che sta respirando E quindi ogni tanto Partono effetti Di bollicine Che vanno verso l'alto Ovviamente Lì dove c'è la profondità Un blocco Non aveva molto senso Se già vai Nelle profondità Delle oceano Ha molto più senso Ma ragazzi Detto ciò Trasferiamoci Nei biomi specifici Allora Per prima cosa Volevo raggiungere Un'isola Perché Una caratteristica Delle spiagge Vediamo se qui abbiamo Il bioma spiaggia Perfetto Sentite Dovreste poter sentire Due Anzi tre suoni Caratteristici Il primo sono i gabbiani Li sentite che passano Il secondo È il suono Della sabbia Quando camminate Sulla sabbia E il terzo È questo frucce di sottofondo Che sarebbe Il suono Delle onde Che in questo caso Non si sente Vediamo se ne arriva una Ecco qui Un'onda È appena arrivata Arriva Ovviamente la cosa Fa un po' contrasto Perché Il mare è fermo Però immaginate Questa mod Messa con delle shaders Che magari Movimentano un attimino L'acqua Si avrebbe un effetto Davvero fantastico Trasferiamoci ora Non dovevo cadere Non era voluta come cosa Trasferiamoci ora Nel deserto Ragazzi Allora Siamo nel pieno Del deserto Vicino anche alla mesa Qui la situazione È pressoché Normale Ma se noi mettessimo Weather Rain A parte questo suono Di un insetto Inquietantissimo Se mettiamo Weather Rain Iniziano I particellari Di sabbia Quindi ovviamente Nel deserto Non piove Però Si solleva la sabbia C'è questo effetto Di polvere Tutto attorno a te Di polveri Che si muovono ovunque E questa tinta Giallassa Nell'atmosfera Perché appunto Si sta alzando La sabbia Se noi mettiamo invece Thunder Qui arriva la cosa caratteristica Perché si scatena La vera e propria Tempesta di sabbia Quindi i particellari Diventano molto più intensi Il cielo si fa nero E le tinte gialle Comunque Rimangono In questo caso Siamo In una tempesta Di sabbia Detto ciò La cosa Probabilmente Più interessante Di tutta la mod Più magica La troviamo Nei cosiddetti Biomi polari Quindi quelli freddi Tipo Ice Plane Col Taiga Ice Spikes E queste cose qui Quindi quando noi mettiamo La notte In questi biomi Capiterà Di vedere Spawnare Guardate laggiù Vedete quell'effetto verde Sta spawnando Una bellissima Aurora Boreale Ragazzi Quanto È magica Questa cosa Ora io Vorrei Davvero Commentare insieme a voi Quest'immagine È bellissimo Abbiamo Da una parte Le Ice Spikes La luna Sopra la montagna E poi L'aurora boreale Dall'altra parte Con la foresta di sottofondo Guardate che magia L'effetto che fa Quando noi Di notte Camminiamo Tra i ghiacci Andando verso L'aurora boreale Tra l'altro Un'altra caratteristica Di questi biomi È che i blocchi Di ghiaccio Fanno un effetto Di crack Sentite Davvero una gran figata Piccolo inconveniente Se poi tutti i tipi L'aurora boreale Rimane in cielo E vedete Adesso ho messo anche giorno Modificato Il tempo E il tipi E ho un attimino Buggato la situazione Ovviamente Questa mod serve per il survival Io ve lo sto presentando In creative Però Se ti tipi E cambi il giorno Di colpo Vedete L'aurora boreale Ci mette un po' Ad andare via Quindi Si glitcha un attimino Perché ha bisogno Del suo tempo Però Se giochi in survival Queste robe Non succedono Ora In ultimo Il nether Ragazzi Perché anche il nether Viene caratterizzato molto Quindi accendiamo il portale E buttiamoci subito dentro Per trovare Qualcosa di diverso Allora Siamo spawnati in un nether Un po' sfigato Perché non presenta Le classiche aree aperte Quindi Quello che vorrei fare È raggiungere Una zona Un pochino più aperta Per farvi sentire Un po' Questi suoni Intanto C'è un'atmosfera Molto più cupa Sentite i suoni È tutto Appiccicoso Sembra di camminare Su Qualcosa di organico È quasi disgustoso Sentire La magia vera È quando attivate Una tempesta Quando si attiverà Una tempesta Da sola Nel nether Vedete Ci sono particellari Di fuoco Nell'atmosfera L'atmosfera Si tinge di rosso Vedete che lì in fondo Abbiamo questa gradazione Di rosso sangue E diventa tutto Molto più buio Ragazzi Non sto utilizzando shaders Questo è l'effetto Della mod Ed è davvero Qualcosa di figo Ora Altre due cose Che dovremmo vedere Anzi Una vedere L'altra sentire La prima cosa Dai laghi di Magma Fuoriescono Come vedete Queste colonne di fuoco Ogni tanto Come se fossero appunto Dei zampilli Classici Ma un po' Più potenti Più intensi L'altra cosa Molto interessante Che però Va sentita Necessita di questo Della soul sand Ragazzi Sentite Ragazzi È qualcosa Di troppo Figo Quando tu cammini Sulla soul sand Si attivano Dei suoni Di risate Di movimenti Demoniaci Perché Siamo nell'inferno E quindi Suoni di questo tipo Servono In minecraft vanilla Purtroppo Non ci sono Il nether Così È bellissimo E ancora Non abbiamo Le shaders Quindi Penso che sia Tutto dire Bene ragazzi Abbiamo completato Il nostro giro Ho cercato di recensire Al meglio questa mod Ma non è semplice Perché è una mod Che va Vissuta Più che Descritta Infatti Non credo Non credo di aver Reso Al 100% Ma forse Neanche al 60% Quello che è La bellezza Di questa mod Se vi piace Se vi interessa Aumentare L'esperienza Di immersione Nel gioco Io vi consiglio Di provarla E di sentirla Con le vostre orecchie E vederla Con i vostri occhi Semplicemente Sempre sto cercando Di vendervela Come se l'avessi creata io In realtà Mi piace E basta Cioè è davvero Una cosa figa Quindi ve la straconsiglio Se volete fare un modpack Realistico Di minecraft Provatela E per il resto Sì Magari andrebbe Unita a qualcos'altro Secondo me Con una shaders Di quelle fighe Se ovviamente Siete in grado Di reggerle Anch'io magari Potrei avere dei problemi A un certo punto Ma se avete la possibilità Di metterle Provate Perché secondo me È una figata assurda Detto ciò Spero che questa mod review Un po' diversa Del solito Vi sia piaciuta Noi ci salutiamo E ci vediamo Settimana prossima Quindi un saluto Da Iron Blaze Ciao a tutti Ciao a tutti